Venerdì 7 di luglio, giornata di sciopere a livello nazionale, tra questi quella del comparto industriale dei metalmeccanici. Tre presidi nel territorio pesarese alla BS di Pesaro, alla Profit Glass di Fano e alla Riva Col di Vallefoglia, dove ci troviamo questa mattina presidi sindacali ai quali sono stati accompagnati anche sciopri del comparto con lavoratori astenutisi per circa 4 ore dai propri impieghi. Sulla tavola le problematiche aperte col governo, al quale si fanno richieste precise in tema di rilancio industriale, di transizione sostenibile, di occupazione, soprattutto anche con lo spauracchio dell'intelligenza artificiale che minaccia sempre più posti di lavoro. Le grandi crisi industriali del Paese, che vanno avanti da 20 anni di mancate politiche industriali, noi le rivediamo tutte nel territorio di Pesaro. Sta piovendo cassa integrazione, gli interinali stanno uscendo dal ciclo produttivo, tante aziende avranno la digitalizzazione e l'avvento delle tecnologie che ridurrà l'occupazione, quindi noi chiediamo al governo di sederci con noi, fare una politica industriale per riconvertire il Paese. Per fare questa operazione vogliamo sfruttare i soldi del PNRR e non come parte del governo che dice che non li vuole usare tutti. Mettiamo a livello urgente la riqualificazione delle aziende che attualmente sono ferme, basta prendere esempio anche quello che riguarda le nostre acciaierie d'Italia, quindi questo sciopero è a livello nazionale, l'abbiamo legato anche al nostro territorio, perché comunque sia in questo momento stiamo notando delle difficoltà per alcune delle aziende sulle quali abbiamo fatto dei presidi. Sono iniziati le prime astensioni perché in pratica lo sciopero è organizzato a quattro ore, cioè di quattro ore, le ultime quattro ore del turno, comunque c'è stata una stensione del 60-70%, quindi un buon risultato. Chiediamo che ci sia il rifinanziamento dei contratti di espansione, ovvero il lavorare meno, il lavorare tutti, perché con l'avvento delle nuove tecnologie i posti di lavoro diminuiranno. Se qui mettono il robot è chiaro che andranno via gli operai e quindi noi chiediamo che ci sia questa rifinanziazione per non perdere posti di lavoro. Il problema è che né a livello regionale né nazionale si siedono a parlare con il sindacato.